benvenuti benvenuti cari amici siamo viti in questo nuovo video naturalmente come sempre ricordati distruggi il botone like, iscrivi il canale, iscrivi anche il canale telegram oggi andiamo a parlare di FAIR che dal mio punto di vista è un progetto davvero devastante sulla carta naturalmente vi ricordo che si tratta di un ICO per cui un progetto molto rischioso però che potrebbe dare grandissimi rendimenti per grandissimi parliamo addirittura di un 100 barra 200x questa è la mia convinzione tematica quindi cosa vuole diventare FAIR sostanzialmente vuole diventare un nuovo marketplace ok sostanzialmente per darvi un'idea livelli di OpenSea e tra l'altro sta già sponsorizzando le spagnole squadra di calcio che milita nella liga spagnola per cui si stanno muovendo tantissimo e hanno anche come partner cointelegraph capital.com express new nation per cui insomma si stanno muovendo veramente alla grande tra l'altro il 22 ok di febbraio ci sarà il lancio ok del token naturalmente se volete unirvi cliccate qui su white list e inserirete i vostri dati vostri mail e potete acquistare il token detto questo naturalmente che cosa vuole fare FAIR sostanzialmente vuole creare un marketplace o degli NFT nel quale i creatori i principali brand potranno andare a costituire le loro comunità oltre a questo naturalmente abbiamo visto come i partner sono molto ma molto forti o che andremo dopo a vedere ma tra l'altro vogliono anche costruire il loro metaverso poi andremo a vedere la roadmap naturalmente questo potrebbe veramente innescare un prezzo pazzesco di FAIR e tra l'altro potete già scaricare anche l'applicazione se cliccate qui su get it on google play naturalmente vogliamo dar vita anche alla FAIR card nel quale avrete pensate il 0 per cento di transazioni e la carta sarà gratuita e per cui naturalmente questo progetto ha colto tantissimo la mia attenzione ora vorrei vedere con voi la roadmap perché il progetto è nato a gennaio del 2021 formalizzato a maggio e sostanzialmente in settembre ci sono stati i primi investitori con circa 600 mila dollari sono entrati su FAIR successivamente c'è stato un aumento di capitale a un milione di dollari a novembre aumento a 1.7 milioni e tra l'altro è stata attestata anche la FAIR card a gennaio 2022 3.8 milioni di dollari e ora presto dovrebbe uscire pensate proprio a febbraio la FAIR card vi ricordo che il progetto verrà lanciato tra quattro giorni a marzo dovrebbe iniziare ok i primi brand le prime marketing ok di questa token anche se effettivamente abbiamo visto come già gli spagnoli lo sta sponsorizzando e poi andremo a vedere proprio un video nel quale si parla di questo progetto è per arrivare poi a fine giugno ok con la creazione del metaverso che sarà diciamo entrato nella sua parte più importante a dicembre del 2022 questo è il CEO per cui ci mette la faccia il suo nome è Luis Caranza e tra l'altro lui prevede che il prezzo di bitcoin raggiungerà ai 100 mila dollari speriamo che questo avvenga e notizia proprio confermata è che appunto nuovo sponsor delle spagnole è proprio FAIR tra l'altro hanno anche una partnership con Moonpay ok un colosso comunque delle criptovalute e in particolare dei pagamenti a livello globale per cui veramente stanno sempre più entrando ok penetrando all'interno del mondo cripto ora vorrei vedere con voi questo video per quanto riguarda gli spagnoli a Allora c'è da dire sicuramente che l'Espagnol, ok, come vedete non era il Madrid o il Barcellona Però comunque è tredicesimo in classifica e comunque muove ok milioni di euro e di dollari annualmente Di conseguenza io penso che comunque essendo un progetto da ICO potrebbe fare molto molto bene Giusto per darvi un termine di paragone rappresenta, non so se è più forte la serie A italiana o quella spagnola Comunque per dare un'idea tipo un Bologna ok della serie A Tra le trofeer sta sponsorizzando anche il biliardo professionistico Come vedete qua, quindi attenzione perché per darvi un'idea Crow andò a sponsorizzare ok gli scacchi Per cui comunque è un qualcosa di molto molto interessante il fatto che stiano spingendo sul marketing A livello calcistico e anche in ambito in questo caso il biliardo Può essere molto molto interessante anche per dimostrare quella che è la sua forza E come stanno utilizzando anche il capitale raccolto Naturalmente vi ricordo che se volete ok partecipare a questa ICO Basta che andate sul sito ok di FAIR Più in particolare fair.tokensoft.io Ok cliccate su sign in E successivamente ok naturalmente andrete a inserire i vostri dati A inserire la vostra password vi dovete registrare e potete partecipare alle ICO Per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di distruggire il botone a like Iscrivetevi al canale e ci vediamo presto Naturalmente vi ricordo anche i servizi che offro io Se volete una lezione individuale di 30 minuti il costo è di 25 euro E in più potete abbonarvi sia al gruppo Elite se volete con un costo di 50 euro E al gruppo Premium al costo di 24 euro Per cui vi ricordo di distruggire il botone a like Iscrivetevi al canale e ci rivediamo presto Grazie 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 Grazie